amici del canale buon pomeriggio dal vostro lino juventus e niente anche il giorno dopo di una vittoria per 1 a 0 con uno sport in lisbona è vero giocando male ma pur sempre una vittoria in un quarto di europa league siamo l'unica tifoseria che non si sa godere il momento non si sa godere una vittoria ma deve cercare sempre il piedone l'uovo per contestare per criticare per parlare di allenatore per dire allegri se ne deve andare allegri lo dobbiamo cacciare e le solite puttanate che ormai si sentono da inizio anno ripeto questa è una situazione delicatissima dove massimiliano allegri è il migliore allenatore del mondo sul fatto che riesce a gestire e a tenere unito un gruppo per quello che stiamo vivendo che qualsiasi altro allenatore non avrebbe saputo tenere in mano e avrebbe già messo giocatori uno contro l'altro un gruppo che si sarebbe spaccato ieri l'immagine di perin e scesne abbracciati e dire siamo un gruppo unito ma qui il merito a chi va ma possibile che voi giudicate l'allenatore solo sul piano di gioco a massimiliano allegri quando c'aveva un centrocampo con i vital con i pillo con i marchi giocatori con i piedi buoni la juventus giocava abbastanza bene perché non non venivano 1 a 0 le partite di quello a juventus la se ci ricordiamo però io mi sento dire che quello era il merito era dei giocatori che erano forti e che facevano tutto solo oggi che abbiamo giocatori di scarsa qualità in mezzo al campo lì la coppa di allegri cioè quando avevamo i giocatori forti si vincevano le partite il merito era dei giocatori che erano forti oggi è il merito è anzi il demerito di allegri se giochiamo male io lo dico un'altra volta la juventus priva di giocatori di qualità e di tecnica perché per fare un determinato gioco per fare una partita dove tu per 80 minuti devi attaccare devi tirare in porta devi creare palle col servono i piedi buoni ieri locatelli e prendo locatelli perché per me è stato il peggiore in campo ha avuto un sacco di palloni dove bastava giocarli meglio che poteva involare chiesa o di maria per dei contropiedi se tu scarseggi di qualità non sembra che ogni volta si deve sempre rompere i coglioni all'allenatore poi ripeto andiamo oltre il campo forse qualcuno dimentica quello che noi stiamo subendo oltre il campo noi oltre il campo oltre tutti i danni che ci stanno facendo che ci buttano merda addosso dalla mattina alla sera che ci cacciano una sentenza al giorno che ci dicono juve rischia questo juve rischia questo juve rischia quella massimiliano allegri sta tenendo in mano una rosa che il lavoro che sta facendo lui fuori dal campo non lo farebbe non guardiola no cloppe no conte no in zaghi nessuno 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 capito il lavoro che sta facendo allegri fuori dal campo possibile che non lo guarda nessuno state solo a rompere i coglioni a parlare del campo e abbiamo vinto soffrendo e abbiamo vinto meritando ma ma possibile che nessuno sa quello che stiamo subendo fa finta di non sapere possibile che non si riesce a dare merito a un lavoro che sta facendo allegri di tenere un gruppo unito fuori dal normale no perché voi siete accecati dall'odio di allegri e state sempre a rompere i coglioni giochiamo male giochiamo male oh hai vinto 1-0 un quarto di finale d'Europa League se io al ritorno faccio schifo faccio 0-0 e soffro e passo e vado in semifinale me ne sbatto i coglioni lo Sporting Lisbonne è la squadra che ha eliminato la squadra che per tutti voi era favorito ovvero l'Arsenal perché non diciamo la verità per tutti l'Arsenal era la favorita per l'Europa League lo Sporting Lisbonne l'ha buttato fuori sarà che l'ha buttato fuori i ricordi l'ha buttato fuori quindi non state sembrere un po' possibile che non riusciamo a godere il momento anche in questo momento dove siamo tartassati sulla stampa ovunque noi tifosi dovremmo essere uniti e dire cazzo stiamo facendo un capolavoro no dobbiamo sempre andare a cercare la critica dobbiamo sempre andare a cercare il pelo nel vuo perché e lo dico il problema è uno solo che purtroppo i nostri influencer juventini su web i più seguiti sono i primi a buttare merda su Juventus e tutta la gentaglia che ci va dietro come pappagalli ripete sempre le stesse cose ragazzi godiamoci il momento che con il momento che sta diventando la Juventus è il momento forse anche più del 2006 perché nel 2006 sì si sapeva subito che avremmo rischiato la Serie B ma oggi l'accanimento è il doppio solamente che a differenza del 2006 c'è una Juventus che si difende con tutte le proprie forze è questo che ci farà vincere questa situazione qui noi dobbiamo essere uniti goderci il momento e ce ne dobbiamo fregare di come vinciamo l'importante è che si vince e si va avanti un abbraccio e fino alla fine mi raccomando e vi aspetto domani sera canale leone bianconero geforever tv con francesco repici